La senatrice del Partito Democratico, Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, ha tenuto questa mattina sul Mona e Avezzano un incontro con l'Ordine degli Avvocati per la salvaguardia dei tribunali minori. È stata l'occasione per parlare delle proposte in campo e raccogliere le istanze del territorio, che chiede a gran voce la salvaguardia dei presidi giudiziari fondamentali per la provincia dell'Aquila. C'è, come sapete, un emendamento sottoscritto da tutti i partiti presenti al Senato per l'ottenimento di questa proroga, che riteniamo sia la misura necessaria e indispensabile per poter trovare una soluzione a un provvedimento che ormai data dieci anni, e che quindi va sicuramente rivalutato nell'esperienza di questi ultimi dieci anni e soprattutto nella situazione di questo territorio, insomma, che ha delle esigenze legate alla morfologia, legate comunque a quello che è successo in questi ultimi anni e anche legate alla situazione, diciamo così, giudiziaria, sia con riferimento al penale e il civile. Quindi al momento siamo impegnati su questo emendamento e ci battiamo perché venga approvato. La fase che stiamo vivendo, l'uscita dalla pandemia, ci dice che l'aspetto economico è legato, influenzato, determinato anche dai costi sociali, dall'impatto sociale, dagli impatti ambientali. Quindi quando parliamo di aspetto economico dobbiamo tenere presente una serie di fattori. Oggi abbiamo degli elementi in più rispetto a dieci anni fa e quindi sicuramente devono essere tutti valutati, soprattutto con riferimento a un'eventuale immediatezza di messa in esecuzione di una norma che è data, come dicevo, diversi anni fa. Una battaglia trasversale che vede in campo tutte le forze politiche, le istituzioni e gli operatori della giustizia con i relativi ordini forensi in prima linea. L'obiettivo non è solo quello di ottenere un'ulteriore proroga, ma scongiurare definitivamente la chiusura. Il sostegno di Anna Rossomando, che è la vicepresidente del Senato, in questi giorni ci è molto prezioso, perché l'azione che i parlamentari hanno fatto tutti insieme sia sostenuta a livello nazionale, non sia solo una rivendicazione regionale. Di fronte all'opposizione di mancanza di risorse si può, si deve trovare una soluzione. Il fatto che il Parlamento mostri unità intorno alla volontà di trovare una soluzione per noi è un appiglio. Ma siamo pronti, naturalmente, alle giuste battaglie, all'attenzione massima e a fare di tutto per ottenere ciò che è giusto.